Perché ci vuole un intervento pubblico, c'è un ruolo pubblico che lo Stato deve fare. Uno Stato innovatore, come dice la professoressa Mazzucato in modo molto preciso, è innovatore non se toglie le tasse o lasci a licenziare, è innovatore se ha un'idea, se ha i settori strategici, se fa investire, se incentiva le imprese in un certo modo e anche se ha comportamenti virtuosi premiando quelli che investono, non quelli che portano i soldi all'estero. Quindi al momento Landini non si aspetta di particolari cambiamenti dal governo Renzi su questo tema dell'austerità. Io penso che se il governo Renzi, che è molto attento, ascolta la piazza di Omani e si rende conto del consenso che su queste posizioni la FIOM e la CGL stanno avendo nel paese, sarebbe utile anche per lui, se davvero vuole cambiare il paese, cambiare strada.